Un altro anno se ne va con i problemi dell'impiantistica sportiva ancora irrisolti. Sono passati esattamente 12 mesi da quando l'assessore Luciano Marinucci ha annunciato la volontà di affidare la gestione delle strutture ai privati e di realizzare il manto sintetico al campo Mezzetti. Il 2015 doveva essere l'anno della svolta per lo sport cittadino, che invece nel settembre scorso ha subito una mazzata quando i 150.000 euro previsti sono stati dirottati al centro storico, smorzando di fatto i buoni propositi. Tutto rimandato al 2016. La sistemazione degli impianti sportivi è un obiettivo importante da perseguire nel nuovo anno. A riferirlo è stato il sindaco Peppino Ranalli che nel bilancio del 2015, tracciato nei giorni scorsi, ha inserito l'argomento dello sport tra le priorità, con l'urgenza di realizzare il manto sintetico al Mezzetti. Dalla messa a norma dello stadio Pallozzi, avvenuta ai tempi della Serie D del Sulmona Calcio ad oggi, non ci sono stati più interventi di rilievo, tranne i 20.000 euro spessi per la sistemazione del Mezzetti, che è però tornato peggio di prima. La manutenzione sembra non esistere al palasport di via 25 Aprile e che fine farà la palestra pluriuso Nicola Serafini in località incoronata? Noi abbiamo avuto la riconsegna della palestra pluriuso Serafini, anche su quella palestra abbiamo avuto un finanziamento regionale per cui abbiamo provveduto alla messa a norma delle tribune che prima non c'era e quindi anche su quel palazzetto non si potevano svolgere ufficialmente e regolarmente le partite di campionato. Dalle notizie che ho mi sembra che i lavori siano quasi terminati e quindi potremo restituire alla collettività anche quell'impianto. Il sindaco Ranalli ha annunciato inoltre che sarà compito dell'amministrazione far rispettare i pagamenti delle tariffe al fine di evitare azioni di recupero crediti ed il regolamento sull'utilizzo degli impianti, visto che dall'insediamento ad oggi ha trovato una situazione precaria per l'assenza di custodi in alcune strutture. Il primo cittadino, una tiratina di orecchie, la fa qualche società che non avrebbe mostrato responsabilità e in alcuni casi provocato anche piccoli danni materiali, infischiandosene degli altri che usufruiscono dello stesso campo o della stessa palestra. Ci sono stati degli eccessi ma bisogna capire che gli impianti sono beni comuni che appartengono a tutti, ha concluso Peppino Ranalli, secondo il quale il problema si risolverà con l'affidamento alle società per garantire una gestione responsabile, come avviene per i campi di atletica leggera.